La connessione tra il settore bancario e le attività caratteristiche è una cosa significativa della storia economica italiana. In realtà, molti bancari italiani esistono come istituzioni secolari o religiose con proposti caratteristiche, come abbiamo parlato di Bologna, o come piacere, nel medio e nel medio moderno. Le bancari italiani e le banche servizionali sono stati preparati per aiutare le persone con banche accessibili nel secolo XIX. La maggior parte del settore italiani è stata pubblica nella prima parte del secolo XX secolo. Anche dopo la privatizzazione del secolo 1992, le banche italiani mantengono un ruolo non-profitare con il lavoro delle fondazioni e le banche locali. La Compañe di San Paolo è una storia interessante, perché in 450 anni ha passato tutte queste fasi, come i suoi archivi storici testificano. Le due aspetti di solidarietà e credito, con diversi modi, a diversi tempi, sono due parte della storia della Compañe di San Paolo. che può essere diventata in quattro periodi principali. Una caratteristica privata che ha gestito una ponte, una caratteristica pubblica con attività di banche, una banca pubblica e ora una fondazione separata dalla banca. Inizialmente la solidarietà prevale, ma presto, come vedremo, la finanza fa l'apparazione. 1563, questo è il nome della nostra fondazione, non è un caso. 1563 è un momento. Dopo il Cato-Cambresi, il Dice di Savoia, che aveva stato occupato durante le warze tra Francia e Spanio, era per la sua independenza, e Torino diventò la sua capitale. Il stesso anno, il fine del Consiglio di Trent, marcava il comitato della riformazione di counter. In questo contesto politico e religioso, la Compañe di San Paolo è stata creata come una bravura, fatta di mercanti, luoghi, uffici stati, consiglieri di città, con aspetti religiosi e sociali. La difesa della religione cattolica, l'aide a membri impoverimenti delle classi medie, aiutare le donne e le donne, giocando le doris e le hostendo in istituti educativi, la città contro la usurità. Questo è il cuore del pop, che autorizzò l'apertura del paolo, nel 1579. L'assetto della Compañe si è crescita con i legati e i bequesti, aiutando la Compañe di imparare su una attività finanziaria. Nel archivio abbiamo 400 donazioni e donazioni, e il 90 chenzi. Il chenzo è una forma di luogo che è usata dalla Corte, usata come investimento dalla Compañe. La figura mostra il capitale e l'economia che riguardano la Compañe di diversi branchi. La Compañe ha giocato un ruolo sociale in Piedmont. Anche in 1653, il Duc di Savoia, Carlo Emanuele II, ha entrostato il gestione della scuola pubblica all'apertura del paolo, per la sua relazione e l'esperienza. in Piedmont. Siamo arrivati alla fine del XVIII secolo, quando la rivoluzione della Francia arrivò in Turin, si chiama il paolo e la compagnia. in Piedmont. Si apriravano un nuovo paolo che seguì il modello del paolo di Parisi, che accettava i depositi, mettendo l'emfasi sulle attività banca. Nel momento della rivoluzione, la compagnia ha avuto il gestione di imparare interiore e di imparare interiore. Il secondo periodo, come il nome stesso è caratterizzato dalla combinazione di beneficenza e credito . Spiedmont fuori dal absurdo a una monarca constitutionale in 1848 e per cui l'Italia aveva cercato di diventare un'unità moderna liberali si spavano e la convinzione si cresce che la congregazione devia essere disolvita e che le loro proprietà deviano essere confiscate. Il reino, Vittorio Emanuele II, ha messo i grossi assets e il gestione dell'Opera Piede di San Paolo sotto la direzione del Paolo appoggiato dalla comunità e del governo. La attività è fortale con la scelta della scelta e la trasformazione del Paolo in qualcosa che è molto simile a una banca di salvare. e la banca di San Paolo 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 Grazie.